Ehi, con me in diretta, ho il piacere di avere gli improbabili sopravvissuti dell'incidente di Jurassic World, i sei di Nublar. Questi adolescenti sono stati abbandonati mentre si trovavano al campo e dati per morti dopo la caduta di Isla Nublar. Per sopravvivere sono stati costretti a lottare da soli per quasi un anno. Come ci siete riusciti? Ci siamo riusciti perché eravamo uniti. Darius! Ben, che cosa ci fai qui? Tu però cerca di non agitarti. Qualcuno ci dà la caccia. Ma perché? Chi arriverebbe a tanto? Non lo so, con sicurezza. Siamo in pericolo. Corri! Siamo in pericolo. Siamo in pericolo. Siamo in pericolo. Siamo in pericolo. Grazie.